Ancora una vittima in via Fiorentina d'Arezzo, la seconda in appena 12 giorni, è morto infatti il 78enne rimasto ferito nello schianto di quattro giorni fa nei pressi dell'edicola Maranto. Abitava ad Arezzo e si chiamava Dino Mori. Chiara la dinamica ricostruita dai vigili urbani, una Peugeot 107 stava marciando da Salleo verso Arezzo dietro un autobus, il bus si arresta alla fermata nei pressi delle strisce pedonali quasi davanti all'edicola. L'automobile con alla guida il 78enne tenta il sorpasso, ma una volta invasa la corsia opposta avviene lo scontro, tremendo, con una Mercedes classe C guidata da un 63enne retino che stava procedendo da Arezzo verso Salleo. Quattro le persone che rimangono ferite, due all'interno della Peugeot, due all'interno della Mercedes. Quella più grave è proprio il 78enne. Deve essere trasferito alle scotte di Siena, ma la nebbia impedisce all'elicottero Pegaso di alzarsi in volo e così il ferito viene trasportato in ambulanza. L'epilogo nella serata di martedì con il decesso dell'uomo. È chiaro l'errore umano alla base del fatale incidente, come è evidente però il traffico intenso della zona. Una strada nevralgica per Arezzo che unisce il centro alle principali periferie e che ospita ai lati numerosi esercizi commerciali. Auto e mezzi pesanti, pedoni, scooter e biciclette convivono nella stessa carreggiata così lunga e diritta da invogliare chi sta il volante a schiacciare l'acceleratore. E quanto sia pericolosa questa strada ce l'aveva testimoniato Olimpio Veri, marito di Giuseppina Bacchi, morta a 68 anni il 5 dicembre scorso dopo essere stata investita da un'auto il giorno precedente, quando stava attraversando la strada sulle strisce proprio davanti all'edicola. Qui c'è una particolarità, c'è la fermata dell'autobus dove sono adesso fermi quei ragazzi e spesso e volentieri le auto sorpassano gli autobus? Senza cautela, sorpassano senza cautela, magari anche a alta velocità. Per voi è un déjà vu molto doloroso perché lei ha perso sua moglie proprio in questo punto della strada? Sì, infatti io ho perso mia moglie la settimana passata proprio in causa di un sorpasso azzardato a alta velocità. Quindi l'appello in questo caso, non lo so a chi lo vorreste eventualmente fare affinché questo tratto di strada diventi meno pericoloso? L'appello va fatto alle istituzioni, al sindaco, agli uffici preposti, al traffico, ai vigili urbani che non si fanno mai vedere, le forze di ordine qui vengono solo per prendere il caffè e poi arrivano via, ma non c'è un presidio, diciamo salto aria, non diciamo fisso, ma almeno salto aria non c'è.